All'Ecco le imprese rosa crescono del 3,1%, più che nel resto della regione che registra uno 0,1%. Ma non basta, dice Silvia Dozio, presidente del movimento Donne Impresa. Solo un'impresa su 5 è guidata da donne e servono politiche coordinate. L'associazione lancia un'iniziativa. Per tutto il mese di marzo sarà possibile usufruire di uno sconto del 50% da estetiste, parrucchiere, fioriste e fotografe. Vogliamo omaggiare le donne che fanno parte di Confartigianato, commenta la presidente. In provincia di Lecco le imprese a conduzione femminile sono 5.122, pari al 20,5% delle imprese. Di queste, 1.294 sono artigiane, il 15,8% del totale, di cui 188 guidate da under 35 e 132 da imprenditrici di origini straniere. Rispetto all'anno pre-covid, il nostro territorio, tra quelli in Lombardia, che ha fatto registrare dinamiche di crescita più robuste. Il 2023 si apre con dati record e riprende l'adozio, con un più 30.000 per quanto riguarda le donne occupate in Italia. Le quote rosa però non sono la formula magica per risolvere il problema della parità di genere. Il futuro dipende da politiche strutturali, sistemiche e coordinate, non da interventi spot e bonus, per sostenere la propensione imprenditoriale e favorire l'occupazione, garantendo a tutte servizi indispensabili per conciliare il lavoro con la cura di sé e della famiglia. Per questo, prosegue la Presidente, il Movimento Donne Impresa di Lecco, unitamente a tutte le realtà regionali e nazionali, continuerà a battersi per definire un contesto normativo e culturale che consenta alle imprese femminili a valore artigiano di esprimere al meglio le potenzialità di creare occupazione, generare innovazione e contribuire alla crescita economica e sociale.